Musica Amici di La 6 ben ritrovati, finalmente ricominciamo anche storie di motori, non potevo che ricominciare con Paolo Casoli che li trovo con grande piacere, ciao Paolino Ciao Ben ritrovato, senti voglia di parlare partendo dall'attualità, chi guarderà poi le repiche perché poi queste trasmissioni vengono riutilizzate, fruibili sui nostri siti per cui si possono rivedere con calma, in realtà arriviamo da una gara di moto mondiale bella tosta però parliamo comunque di un duello che è destinato a far parlare, ha fatto parlare tanto dal 2015 in avanti e adesso farà parlare almeno per un altro triennio ma forse di più Marquez Rossi che idea ti sei fatto? Voglio il tuo parere perché poi da lì vado su di te sulle battaglie epiche che hai vissuto in pista L'idea della gara è stata un casino mostruoso, dall'organizzatore che ha fatto delle gaffe incredibili proprio principianti dello sbaraglio fino alla gara che è stata bella, vincente per la rimonta di Marquez però è chiaro che un attaccante così che attacca al 100% sempre, prima o poi l'errore lo fa e in quel caso ha fatto un errore perché lì ha sbagliato ha sbagliato però ci sta, non ci stava perché non avrebbe guadagnato niente altro nel senso che gli mancava mezzo giro, avrebbe passato Valentino e basta non sarebbe arrivato più avanti, l'avrebbe potuto passare magari una curva dopo però ecco non ci stava per quei motivi ma ci sta l'errore perché quando si era così attento... Io però voglio capire, nel corso di quella gara lì assurda perché l'abbiamo detto direzione gara però vabbè non è questa la sede Io voglio capire quante volte hai pensato, ti saresti voluto trovare dei panni di Marquez nel senso, vedendolo guidare, io voglio stare più sull'aspetto sportivo di un pilota che in una gara dove tutti gli altri stanno remando, vanno tipo dei paracarri Io avrei fatto uguale E questo io voglio capire, il pilota che c'è in Paolo Casoli Io avrei fatto uguale, il problema è che io andavo per terra, Marquez non cade mai Il fenomeno lo vedi lì Ma tu te lo spieghi, come te lo spieghi il fatto che lui ha comunque un controllo anche nella situazione, diciamo quella che precede l'immediata caduta ha un controllo diverso dagli altri Lui secondo me è talmente veloce, è un computer, è talmente veloce nel reagire che riesce a tenere la moto in piedi L'ho visto, adesso non ricordo quale gara fosse uno slow motion dove gli parte la moto davanti nel momento che gli parte la moto davanti, lui pigia col ginocchio, con la gamba fortissimo per terra per tirare sulla moto, e questo l'ho sempre fatto, però lo fa in maniera in tempo reale non passa nemmeno una frazione di secondo, mentre i piloti nei miei tempi si chiudeva di sterzo, a quel punto pigiavi ma andavi per terra Lui lo fa nel momento, forse ancora prima che si chiude di sterzo Io dico, è un fenomeno, non c'è niente da fare Magari come uomo lasciamo perdere, però come pilota è un fenomeno Io sono convinto che invece andresti d'accordo perché adesso lui ha la sfiga di essere spagnolo, di essere nemico di Valentino però ti assicuro che quanto ho visto, lui è uno di noi è uno simpatico, è chiaro che qui probabilmente ha quell'incubo di essere dannato per essere nemico di Valentino però dopo quello che ha fatto nel 2015 mi è diventato antipatico però a livello di umano, come pilota, tanto di cappello per me è il numero uno io credo che come lui c'era solo Stoner e forse io penso che Stoner fosse anche qualcosina di più però Stoner non abbia mai visto fare delle rimonte di questa entità cioè io nella storia, almeno non ricordo, nella storia degli ultimi anni da quando si vive un moto mondiale con un po' più di ossidità un pilota in grado di rimontare è vero che in Moto2 si diceva che aveva il motore che andava di più però insomma in questa gara della MotoGP lui non aveva una moto che andava più delle altre cioè probabilmente ha una moto a posto rispetto agli ultimi anni però girare un secondo e forse un secondo e mezzo più forte degli altri credo che sia qualcosa di anomalo sì perché considera che la condizione della pista non era al 100% c'erano delle zone, delle chiazze di bagnato perciò tu devi andare e fidarti cioè devi completamente dimenticare il fatto che puoi cadere e che ti puoi far male perché la caduta ci sta quando tu guidi pensi sempre alla caduta se no cadresti allora pensando alla caduta ti rallenti un attimo e stai dentro il tuo limite nel momento che dimentichi questa cosa vai oltre il limite e cadi lui credo che la paura di cadere non ce l'abbia mai e nonostante tutto riesce a stare sempre in piedi perché riesce sempre a stare nel suo limite che probabilmente non è il 100% è il 110 che non esiste perché non esiste un 110% però lui è lì lui è in quel range lì che gli altri ciao, non ci riescono ad arrivare Paolo quanto tempo passa? quanto tempo passava quando eri ancora in pista e gareggiavi tra il momento in cui capivi che potevi sorpassare il momento in cui sorpassavi cioè quant'era il gap tra dire vado lì e sai che vai lì quel sorpasso che ha fatto lui nel momento che lui l'ha deciso era già tardi cioè lui ha deciso di sorpassarlo però Valentino gli ha chiuso la strada ha ragione perché doveva chiuderla era davanti e si sono toccati e sono andati per terra però in quel momento lì quando tu ti senti così forte rispetto al tuo avversario questo nel caso è Rossi non è Pincupallino, è Rossi lui si sente probabilmente talmente forte che dice lo passo perché lo passo e allora ritarda la frenata però in quel momento lì quell'altro la frenata l'ha fatta molto avanti perciò lo spazio non c'era più non aveva le spargaro della situazione dove c'è riuscito a stare dentro un pochino di più anche se spargaro è uno che va forte ma è proprio quello secondo me è il fatto di sentirsi veramente tanto superiore agli altri piloti che allora quando ce l'hai davanti tu non lo vuoi avere davanti e nel momento che ce l'hai davanti nello stesso istante che freni tu lo vuoi passare perciò azzardi ok ti faccio una domanda relativa a una squadra a un mondo che tu conosci bene perché Yamaha è stata anche la tua casa questo dualismo, questa lotta rimango ancora sulla battaglia Rossi-Markets è chiaro che è anche una battaglia Italia-Spagna insomma dal punto di vista giornalistico i colleghi in sala stampa si prendono in giro vince uno vince l'altro più grande Rossi più grande Markets e ci sta se non che è successa un'altra cosa domenica molto molto particolare che riguarda qualcuno che a tutti gli effetti non ha un ruolo ufficiale in Yamaha ma che ha preso le veci della direzione del team facendola diventare un po' casa sua tu qui non entri spingendo il direttore sportivo dell'HRC il pilota campione del mondo che va a chiedere scusa poi ha torto però va a chiedere scusa e il manager del pilota io ti chiedo visto che all'estero questa cosa ci sta facendo passare per ridicoli perché in Yamaha dicono comanda uno con le braghe corte i calzini bianchi e il cappello in testa rispetto alla Yamaha che hai vissuto tu come vedi una situazione di questo tipo in cui la direzione non prende nessuna posizione a me è stata veramente una cosa brutta vedere questa persona qui mandare via Marquez che nonostante tutto è andato per chiedere scusa cioè era mesto era ok potrebbero essere scuse false come ha detto Valentino più volte però comunque andava per chiedere scusa io credo che un professionista si sarebbe dovuto confrontare in diretta non voglio le tue scuse perché sei un coglione perché sei recidivo però lo dico davanti a telecamera in diretta non mi trinceo dietro a un a un baluba dai io lo dico io non hai detto te è un baluba a uccio perché comunque non ci sta io quando ho perso il mondiale che l'ho perso per una cosa di questo genere perché mi entrò dentro questo qua dritto mi prese in pieno mi buttò per terra Magrige? sì io ero impazzito ero impazzito nel suo box per picchiarlo sono per fare questo e quest'altro poi dopo alla fine quando vennero alla televisione venne alla RAI per intervistarmi io rinunciare all'intervista perché ero talmente infumana che ho detto meglio di no meglio che non mi intervistino e non l'ho fatta in quei casi lì sai sono due modi di vedere però la squadra ha gestito la cosa in maniera ottimale cioè c'era il c'era il Dorf adesso non mi ricordo bene che era l'olandese che gestiva la superbike che è stato un professionista proprio per è stato nel momento che battà venne da noi lui lo affrontò gli spiegò le cose come andavano spiegate perché c'è stato un po' di marette insomma io mi sono comportato male e io lo dico però credo che in quel momento credevo di avere ragione perché non puoi buttarvi un mondiale perché un cretino ti viene addosso in questo caso è successo che è successo qualche successo l'abbiamo visto tutti secondo me la squadra non ha avuto professionista è stata la gara dei principianti dall'organizzazione anche alla squadra perché non puoi cioè prima di tutto Marquez si è schierato l'hanno lasciato schierare perché c'era un uomo dell'Irta l'hanno lasciato schierare e il direttore di gara ha dato il semaforo verde per cui non tieni fermo altri due minuti lo fai uscire lo fai partire dai box come il regolamento dice perciò è una cosa che è stata la gara dei principianti poi come si chiama il tecnico olandese il capo il capo olandese il Lin Jarvis Lin Jarvis Lin Jarvis si è fatto scansare da Uccio a tutti gli effetti è una casa giapponese che vende qualche milione di uccio non ne ha a tutti gli effetti potrebbe essere il capo il padrone ufficialmente non ha ruoli però si è fatto scansare da Uccio a me è rimasto un po' così anche perché Lin Jarvis è uno che detto francamente hai coglioni forse se l'aveva no cosa dici io ho questo sospetto che ci sia qualcosa che altrimenti non puoi permettere una roba del genere io non so non so sinceramente a me tutta questa cosa qua mi è sembrata una pagliacciata mi è sembrata la gara della parrocchia non c'è stato niente di professionale né dall'inizio né alla fine ma tu ce l'avevi un uccio? no non ce l'avevi perché io ce l'avevo Tappo che è un mio amico ecco però esatto l'amico perché credo che nasca così no? poi la situazione secondo me è un po' degenerata perché io credo Paolo che Uccio e compagnia abbiano fatto tanto il male anche di Valentino probabilmente loro sanno la loro storia per cui evidentemente gli sono stati tanto vicino però a livello sportivo guarda che il casino 2015 secondo me è opera molto di chi sta intorno per questo quando noi non ci stiamo dentro diciamo ma perché Valentino devi incasinarti ricordiamoci come è nata nel 2015 perché è vero che Marquez poi gli ha detto ok adesso ti faccio vedere che te lo faccio perdere davvero perché è vero che l'ha fatto ma se a Paolo Casoli nella conferenza stampa del giovedì del Gran Premio della Malesia dice avessero detto ah bastardo tu mi hai danneggiato a Philip Island quando quello aveva battuto il suo avversario diretto e tu avevi preso paga da da Iannone no? e poi ce l'hai nel culo perché le parole di Valentino furono quelle perché vuoi vincere dieci mondiali non li vincerai mai per cui ce l'hai nel culo io credo che Paolo Casoli ma anche Franco Biese ti è presento qualcosa io avrei fatto di tu adesso ti faccio vedere secondo me però lì secondo me non è stato Valentino Paolo per questo però anche uno come Vale che si possa far condizionare dai suoi amici perché diciamo chiamiamoli amici tutta quella banda lì tu è chiaro che ti confronti con loro dopo la gara parli con loro perché sono amici e magari uno ti pompa ti pompa ti pompa anche in maniera scorretta io credo che il ragazzino si può fare condizionare ma uno come Rossi non è un segno di debolezza magari un lato che non conosciamo di Valentino magari una una debolezza che io non credo dicino no io non credo secondo me quello che è uscito fuori è tutto farina del suo sacco perché lui è un professionista l'ha fatto vedere che è un professionista vero è chiaro che farsi pompare dall'amico non ci sta non ci sta uno come lui non ci sta senti Paolo nel corso della tua carriera ti sei confrontato con tantissimi campioni ce n'è qualcuno che ricordi per doti rispetto ad altri qualcuno che sia doti velocistiche che doti umane ce ne sono due ce ne sono più di due fammene uno per volta e mi spieghi perché allora il primo di tutti era Carlo Slavado Carlo Slavado che è stato tre volte il campionato del mondo da 250 cadde una volta cadde a Rieca Rieca è un tracciato una striscia d'asfalto in mezzo a delle montagne bellissimo di terra la sua moto era in cima al concursolo della montagna da quanto andava forte l'è andata a prendere è sceso dalla montagna è montato sulla moto e ha vinto la gara io Rieca non stradale è già il circuito Rieca è il circuito ok io uno così andare così forte non l'avevo mai visto scusami ti stiamo qui perché ho paura che si senta poi vai un altro che andava fortissimo ma cadeva tantissimo ma andava veramente forte era Jean-Philippe Rougiat Jean-Philippe Rougiat era era uno dei ai nostri tempi che già toccava il gomito per terra ci sono delle foto sue se tu guardi aveva il 9 mi sembra c'è una foto con il numero 9 in piega col gomito per terra con i pneumatici nostri non con quelli di ora ed era fenomenale poi è chiaro tutti gli altri piloti italiani c'era Cadalora Reggiani c'era sì Cadalora e Reggiani erano quelli che andavano più forti in 250 poi c'era Roberto Rougiat la vado erano poi quelli che si giocavano le gare d'altronde Anton Manghi io arrivai che lui è stato parecchie volte campione del mondo io arrivai che lui era già nel tramonto perciò non ho visto le sue doti il suo potenziale vero per di tanti piloti di tanti grandi non ho visto il potenziale vero perché io arrivavo che loro finivano e in quel momento lì non puoi giudicarlo però quelli che ti ho detto erano veramente dei campioni chi era il tuo compagno di avventure di merende tu andavi con Reggio io andavi sempre con Reggio cioè io e lui addirittura c'è stato un momento che ci davano dei finocchi perché eravamo sempre insieme però noi andavamo donna mica fino a culo insomma c'era com'era però il rapporto con Reggio quanti anni vi separavano siete coetanei o no no lui è un 58 59 io sono 65 perciò ci sono 6 anni ti dava consigli come funzionava o eri tu che ne davi a lui lui era no no lui aveva più esperienza è arrivato prima ed era anche il pilota diciamo il pilota di riferimento dell'Aprilia il pilota ufficiale io ero sempre un pilota privato perciò ero sempre quello che rincorreva la moto ufficiale lui invece era pilota già fermato era fortissimo era un signore perché è sempre stato un signore io lo dico lo dico perché gli voglio bene perché per me come fratello mi ha sempre aiutato quando poteva dirmi aiutarmi dicendomi qualche cosa di buono me lo diceva al contrario di altri piloti facciamo esempio un Cadalora che era un dritto lo dico lo dico in maniera simpatica cioè era un bastardo perché lui non ti diceva mai le cose come stavano ti faceva andare fuori strada però ha fatto una grande carriera perché era uno uno tosto uno dritto e in quei frangenti in questo spot qui non puoi mai essere un buono perché il buono alla fine è quello che ti dà tutti i consiglini così per virgolette è il coglione mentre il bastardo è quello che poi fa la strada quello che non ti dice le cose ma fa i rossi della situazione io credo che i rossi non abbia mai aiutato nessuno nella sua vita e i piloti di oggi sono tutti così che ad allora lo era già vent'anni fa però correggio abbiamo fatto delle avventure meravigliose ci hanno divertito come i matti ancora adesso quando ci vediamo che ce la raccontiamo vengono le lacrime da ridere perché ci sono degli eventi che sono addirittura indicibili allora se adesso qualcuno secondo me lo rendi indicibile ce lo racconti perché vogliamo assolutamente saperlo no non si può si qualcuno si può togliamo le parti porno le parti osè ma sono tutte porno però il problema è che c'era della roba sostituiamo di spaghetti al posto della parola porno diciamo spaghetti magari ci viene a capire ci siamo avventurati in donne che magari sembravano bellissime poi dopo erano molto uomini anche magari no molto uomini a lui capitò che mi lo raccontò in Thailandia però lui era avanti anni luce a me perché io era il ragazzino che credeva a tutto mi dicevano guarda quello è un travesto non è vero non ci credo non ci credevo invece lui andò a fare la doccia con questa ragazza che è anche molto bella andò in camera la portò poi dopo dai che andiamo a fare la doccia lei no vado da sola e lui si sospettì io non mi sarei mai sospettito lui si sospettì e a quel punto andò alla doccia spaghetti era lo spaghetti allora lo spaghetti allora la buttò fuori dalla camera e invece un'altra volta andiamo dove dove quello è in Thailandia a Phuket facciamo una cosa sostituiamo il nome Reggiani che magari poi si arrabbia che raccontiamo Gigino 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 voleva guidare la jeep io ho detto dai fammi guidare la jeep no la guidoi la jeep allora vabbè guidate io mi metto a fianco dove eravate questo scusate a Phuket guidiamo Gigino guida la jeep andiamo in spiaggia con sta jeep per divertirci troviamo una ragazzina tanto bella che era uno spettacolo era meravigliosa tiriamola su abbiamo tirato su e poi io passo dietro con lei e Gigino guidava vieni a guidare dopo te l'avete no no non vengo in guidare intanto io ho cominciato un po' a fare spaghetti e poi dopo me la sono portata in camera insieme a lui e abbiamo fatto una spaghettata in compagnia è stato meraviglioso poi dopo lei lei ci disse una cosa che era drammatica e allora io io viene fuori la parte umana del pilota no no sua di Gigino Gigino ha detto no e ora io mi tiro fuori invece io ho detto no no io le do ancora dei soldi insomma alla fine ho spaghettato la scuola perché lei poverina ci aveva raccontato una cosa veramente drammatica che uno uno bravo l'avrebbe lasciato andare infatti Reggio lì è stato è stato veramente bravo invece io ho detto no scusa io se ha bisogno di soldi le do di altri soldi certo e dunque hai fatto bene ho profittato anche perché la spaghettaria lì non la rivedrò mai più esatto prendi la palla al base come si suol dire perdi un treno l'hai perso non lo ritrovi più ma tra l'altro in una di queste puntate anche io non posso dire il nome a parte che l'ha detto lui c'è stato un pilota che nella Repubblica Ceca anzi era ancora cecoslovacchia all'epoca convinse una signorina addirittura il padre si comprò il papà di questa signorina per dei pezzi di ricambio tra l'altro di bassissima qualità invece un'altra signorina la comprò spacciando una moneta da 100 lire per una rara moneta d'argento le iniziali sono EG e Zio Gianola lo diciamo fece insomma di questo ti è mai capitato di circuire qualche ragazza e che rapporto hai con l'Est Europa perché anche lì mi sembra che abbiate fatto tanto spaghetti lì andavamo a Borneau quando c'era ancora il muro quando era ancora diciamo Russia insomma era Est Europa era quella brutta io quando andavo a Borneau avevo sempre uno stato d'animo abbastanza triste perché l'ambiente l'ambiente era triste cioè c'erano queste ragazze meravigliose perché sono forse una delle più belle razze che ci siano le cieche però erano tristi erano tristi erano tutte lì a cercare il pilota che gli desse un paio di calze per andare a letto insieme o che gli pagasse da mangiare un panino o portare la cena fuori io non ho mai però non ho mai fatto bene in quel posto lì non ho mai fatto bene perché facevo fatica un po' con l'inglese e poi con la loro lingua incomprensibile certo incomprensibile mentre c'è un nostro caro amico pilota anche lì non dire il nome che è Gigino Gigino aspetta Gigino Marques Marquette Marquette che si è imparato allo Slavo lui parla Slavo Ceco e Slavo Marchetti Dario Marchetti parla non è il tuo nome DM DM lui è da quel lato lì è numero uno mille volte campionato del mondo numero uno non c'è un altro Freddy Spence era un principiante a confronto lui perché Spence era un altro Spaghettaro no inteso come Spence come pilota scusa non ti sono paragonati a pilota e quella Spaghettaro è stata una cosa lui si è imparato lo Slavo e il Ceco ma lui parla al telefono non è che ha bisogno di parlarti per vedere il gesticolare per capire al telefono combina solo per andare a donne in quei posti lui andava a Piestani che era la gara della Repubblica della Cecco Slovacchia dei tempi quando c'era il mondiale andava a Borno il vecchio Borno cioè no non era già il nuovo Borno il mondiale andava a Borno e lui andava a Piestani che era una gara di contorno e andava là con tutto quello che poteva andare il team ufficiale cioè con cappellini coppe micro ci portava il podio a casa faceva e i manifesti Dario Marchetti gara di Piestani con Dario Marchetti sul manifesto cioè era lui era Freddy Spencer di quel momento e una cosa ho fatto raccontare perché veramente è stato a livello di come dire di pubbliche relazioni numero uno al mondo cioè non c'è un altro non c'è un altro non c'è un altro mi interessa capire invece approfondire quello che hai appena detto che se non c'era una situazione psicologica morale di un certo tipo facevi fatica a rendere questo è stato un limite alla tua carriera o è una cosa che provi ancora adesso cioè dove non ti trovi bene fai fatica a dare il massimo ma quando sei pilota è più un problema no? No no io ero sempre ero sempre oltre oltre il 100% infatti cadevo tanto anche per quello non riuscivo a capire bene qual era il limite però il mio problema erano le piste io avevo delle piste dove con una mano vincevo delle piste dove invece tiravo come un disgraziato per fare la terza fila una di questa era Valencia dove poi mi sono fatto anche male la mia carriera l'ho conclusa lì e una pista dove andavo dentro con gli occhi fuori dalla testa rischiando di cadere ogni curva e alla fine facevo la terza fila andavo a Donington ma questo perché? per delle caratteristiche della pista? per le caratteristiche della pista proprio perché non mi piaceva il tracciato e non mi divertivo io se mi divertivo andavo a Donington mi mettevo la mano legata dietro la schiena con una mano vincevo gli davo un secondo agli altri uguale Bransaccio uguale poteva essere Assen invece c'erano delle piste come soprattutto quelle spagnole dove poi addirittura io ci vissi la prima gara di mondiale 125 e la vissi a Yarrama che era gran premio a Portogallo però la gara era in Spagna a Madrid ma piste come Barcellona Val Bassette Geras non mi sono mai piaciuto non sono mai riuscito ad andare forte come andavo in altre piste ma lì ci sarebbe stato il modo per farti migliorare su cui farti cambiare l'approccio c'è nessuno delle squadre con cui ti schieravi lì no qualsiasi moto abbia avuto io andavo piano con le piste non riuscivo ad andare forte perché non mi divertivo io mi dovevo divertire quando andavo dentro che sentivo che godevo allora riuscivo ad andare forte altrimenti no e per me era un grosso limite perché magari ti giochi mondiale nella pista di quel genere lo perdi non c'era una una persona magari un ex pilota un pilota in attività tu hai parlato del Reggio che ti dava ti dava comunque dei consigli ma non c'era qualcuno che secondo te poteva essere la persona giusta per portare avanti Paolo Casoli per una carriera insomma con più successi rispetto a quelli che hai avuto tanto però potevi probabilmente vincere molto di più no? Sì perché io il mio problema era io sono sempre stato molto riservato anche timido non ho mai mai fatto cose da lo sbuffone oppure tirassero non me la sono mai tirata nel senso che ero molto riservato perché sono sempre stato un pochino timido e però dentro di me ero presuntuoso cioè ero convinto che gli altri piloti soprattutto nelle categorie che ho fatto dopo Superbike e Supersport fossero delle schiappe e questo mi faceva mi dava l'arroganza in pista per andargli a sopassare in punti anche impossibili come la di Goldel di Bransage dove li passavo tutti lì dove non vedi la curva però dicevano che era impossibile passare lì per me era facilissimo passare lì però perché li consideravo molto inferiori a me e questa mia presunzione ha fatto sì che poi io incappassi anche in errori e in cadute perché mi trovo quello là davanti che era lì lo volevo prendere in due curve quando invece ci voleva almeno un giro invece lo volevo prendere in due curve quanto ti ritrovi in Marquez? eh io così infatti molto spesso quando Marquez fa certe cose dico cazzo io l'avrei fatto però lui è un fenomeno io non mi ci paragono in modo di assoluto perché questo qua è un fenomeno vero io ero un pilotino ma è proprio quello la presunzione di essere talmente superiore agli altri che non c'è niente che tu non possa fare però secondo te un pilota per essere un pilota vincente deve essere presuntuoso o no? beh deve essere convinto di essere più forte questo sicuramente perché se tu vai in pista già pensando ah quello là mica ce l'appare quello è più forte oddio ho paura di quello là è una volta buona io mi ricordo quando cominciai a correre nel junior semplice ero campionato italiano junior semplice TT4 corrivo con una villa e mi giocavo il campionato alla seconda gara maggiore davanti a me c'era uno con la tuta conoscritto Gresini Gresini era già campionato del mondo cioè era uno che faceva i mondiali andava forte e io dentro di me ho detto cazzo questo qua devo andare lì dietro devo batterlo e poi alla fine sono andato dietro sono anche andato davanti in prova che poi non era Gresini era uno con la tuta di Gresini però ha capito uno come Gresini che fa il mondiale tu che sei junior che hai appena cominciato quello ti monta sopra con la facilità estrema ma la mia presunzione era quella di stare dietro o andare davanti e direttore perciò quello che mi ha fregato sempre era la testa che era una testa di minchia e adesso sono migliorato molto ma prima era una bella testa di minchia ci sta fa parte della storia di ciascuno di modificare cambiare crescere in qualche modo ci ha provato forse Costa che tu scherzi sempre avete un rapporto troppo divertente ma un rapporto vero neanche lui ci ha provato a farti capire no ma perché tu non gli hai concesso o non gli fregava niente no perché non gli fregava niente poi ti dirò io non ascoltavo nessuno io avevo mio padre poveretto che quello che non gli ho fatto patire poverino adesso che non c'è più penso ma perché il babbo ti seguiva nelle gare tutte le gare questo e questo è una valuta non sapeva lui c'era sempre e lui cercava di darmi i consigli perché da fuori ovviamente vedi meglio io non lo ascoltavo ma dai dai lo trattavo anche male a volte come succede spesso tra pilota e padre perché in questo ambiente qua il padre è quasi un fastidio però Paolo c'è padre e padre c'è il padre ingombrante presuntuoso che fa spesso il male e qui potremmo citare dei piloti anche nel moto mondiale no forse qualcuno che adesso non c'è più ha avuto un rapporto strano col padre e poi c'è invece il padre che cerca di essere di ausilio e mi sembra di capire che il tuo padre era questo il mio era uno che mi chiedevano ma tuo padre c'è? il team mi chiedeva tuo padre c'è? il padre era in giro per la pista non si faceva neanche vedere però quando magari aveva l'occasione mi diceva guarda che sbagli perché devi ragionare di più devi fare questo e io in quel momento quando mi sentivo dire da lui queste cose non le accettavo è sbagliatissimo perché adesso dopo mi sono rifatto nei suoi confronti perché mi è dispiaciuto anche averlo trattato male perché tu ascolti il primo deficiente che ti sembra ecco bravo lo ascolti e magari gli dai rete mentre non ascolti il tuo padre che è proprio quello che ti vuole fare del bene e che sicuramente è quello che ti avrebbe fatto del bene però quando hai 17-18 anni c'è un conflitto che è naturale tra padre e figlio che poi che poi non so che dopo quando non lo hai più non lo hai più ci pensi diciamo che il primo che ti capita che ti dice ti ho visto magari tu ascolti e cerchi di migliorarti perché il primo criterio ti dice qualcosa però sono conoscenti o gente che magari hai visto una volta o due ti dico non ricordo non ricordo neanche bene quali episodi ma quello che ricordo bene è che non ho mai ascoltato il mio padre che invece l'avrei dovuto ascoltare perché era era la persona che mi voleva più bene e che mi ha aiutato a arrivare fino lì perché se io sono arrivato fino a dove sono arrivato lo devo solo a lui investendo dei soldi e poi anche investendo il suo tempo perché partiva a 70 anni in macchina e veniva in Olanda cioè lui mi piaceva guidare la macchina partiva e veniva però però oltretutto Paolo con dei genitori che avevano già perso due figli due figli per cui io immagino anche l'ansia il patema d'animo che questo uomo e poi la mamma a casa mia mamma non ha mai guardato una gara mia mai appena si accendeva la televisione che c'era Rossi lei era tifosissima di Rossi oh c'è Valentino doveva vedere Valentino e io dicevo come? ma la Valentino di me non ha mai guardato una gara perché lei aspettava la telefonata di mio padre tutto bene è andato male ha fatto questo questa insomma lei aspettava questa telefonata poi poi dopo ma ti dispiaceva un pochino il fatto che lei soffrisse? beh ovviamente mi dispiaceva che soffrisse però non capivo a quell'età non capivo la sofferenza che io davo loro o la preoccupazione che gli davo perché era più la volta che ero per terra anche la volta che ero in cima alla moto e adesso che sono padre lo capisco che se mio figlio fosse come ero io l'avrei ammazzato e se mio figlio fortunatamente ha della testa io non ho mai io non ho mai ragionato ero solo istinto istinto e basta il cervello non c'era e questo ahimè ha portato ad avere dei danni fisici mostruosi perché fisicamente sono un relitto e li sento adesso prima non li sentivo adesso comincio a sentirli e poi anche quasi a rischiare di morire perché quando mi sono mi sono fatto male a Valencia che come ti dicevo prima era una pista che io odiavo ero lì per fare i test della moto nuova e il tempo non veniva ero per fare dei test non per fare un tempo con Yamaha il tempo non veniva e io cercavo di avvicinarmi al tempo cercavo di avvicinarmi al tempo e il tempo non veniva cercavo di avvicinarmi finché non sono caduto e lì si è spenta la luce e è finita lì però in quel caso lì tu sei lì per provare una moto non sei lì per fare i tempi perciò prova la moto mettila a punto fai quello che devi provare devi provare le pirelli nuove la moto nuova e invece non ho provato un bel niente ho provato la moto vecchia mi sono steso con quella ed è finita lì perciò uno intelligente avrebbe fatto il suo lavoro sulla moto nuova invece io non l'ho nemmeno potuto provare perché mi sono fatto male per cui il tempo non veniva e qualcosa che imputi a te non c'era la colpa mia il tuo approccio con quella quella moto era favolosa era forse la più bella moto che abbia mai guidato però ero io che in quella pista non riuscivo ad andare forte e cercavo sempre di raggiungere dei livelli come erano gli altri però se non ci riesci non ci riesci e alla fine vai per terra ti fai morale Paolo tu hai detto una frase pazzesca se ci pensi lì si è spenta la luce vuol dire che inizia una nuova vita cioè quando hai riacceso quella luce e hai capito che il tuo mondo stava per cambiare in maniera definitiva che cosa hai pensato ah io ho aperto gli occhi 28 giorni dopo mi sono visto la mia ex moglie e l'Oris Reggiani e gli ho chiesto dove sono cosa è successo perché vedevo che ero in una camera d'ospedale e a quel punto mi hanno spiegato mi hanno raccontato e mi hanno raccontato filo per segno quello che io ho fatto quello che è successo il coma che ho avuto e che ero in Spagna perché mi stavano curando poi da lì mi hanno trasferito tu ricordavi l'incidente non lo ricordi ancora adesso o lei niente io proprio non ricordo l'incidente mi ricordo la sera prima di aver mangiato un piatto di riso con i gamberetti adesso l'odore dei gamberetti mi dà volta a stomaco e poi mi ricordo di essere entrato in pista con la moto poi non mi ricordo più niente in quel momento lì si è spenta la luce i meccanici mi hanno detto che io ho vomitato nel casco quando hanno aperto c'era vomito nel casco perciò la gravità del mio incidente era data anche da quello poi mi portavano subito via mi portavano in questa clinica a Valencia che era un ospedale che io credo non so nemmeno nel paesino più sperduto della Sicilia c'era un ospedale così penoso mi portavano lì mi tennero lì e poi a un certo punto quando Corbascio che era il medico della Superbike venne e vide tutti i documenti che erano tutte le lastre tutte le cose che erano pseudo posto mi disse solo trasferiamo in Italia e lo portiamo a Villa Serena mi ha portato a Villa Serena a Forlì e da lì mi ha curato come si deve ma alla luce del fatto è stato che i medici spagnoli volevano mandarmi a casa già dieci giorni prima e dieci giorni prima io probabilmente sull'era morivo questo perché hai chiesto perché il Corbascio disse di no perché il mio danno neurologico era troppo perché ti volevano spedire via perché per loro ero posto io mi ero diciamo aperto gli occhi mi ero svegliato straparlavo perché la mia ex moglie venne giù era a casa lei venne giù perché mi sentì parlare al telefono che dicevo cose senza senso insensate non dicevo cose di senso perciò lei si preoccupò chiese a Loris se l'accompagnava Loris mi organizzò tutto l'oriento con la Europa Assistance e poi dopo mi portavano via però i medici spagnoli nel momento che io apri gli occhi dissero che ero già trasportabile ma con il danno che io avevo al cervello con l'ematoma che avevo al cervello salivo su un aereo con la differenza di non atterravi o atterravi steso questo è quello che mi hanno detto i neurologi che oltretutto i neurologi dissero che il mio danno era talmente intenso che era impossibile che potessi tornare normale e invece cioè non sono tornato a quello di prima però comunque faccio un po' fatica anche a parlare a volte però comunque sono tornato pseudo normale voglio capire quando tu ti sei reso conto che non saresti più tornato a correre come hai reagito è stato mi volevo suicidare nel vero senso della parola voglio suicidarmi perché la mia moglie andò via mi mollò lì come un scusa allora era ancora tua moglie però sì ah ok era tua moglie ancora era mia moglie questo cambia il comportamento sì sì lei mi lasciò dopo adesso non ricordo bene quando era stato un incidente però lei a giugno maggio-giugno andò via di casa presa via Federico andò via con Federico di casa mi lasciò da solo che grazie ai miei genitori che avevano uno 82 83 anni l'altro 79 mi sono ancora vivo perché grazie a loro perché io non ero capace di fare niente ero steso sul divano non riuscivo nemmeno ad alzarmi non riuscivo a parlare non riuscivo a camminare perché non avevo equilibrio e riuscivo a malapena a mangiare da solo il resto non riuscivo a fare niente c'era mia mamma e mio papà che mi aiutavano poi andai a far a fare delle visite da un neurologo che mi diede da uno psichiatra che mi diede delle pastiglie per poter rientrare dalla come si dice dalla depressione che mi era venuta perché la depressione post-trauma è classica cioè tu hai un trauma cranico violento dopo questo trauma cranico ti viene la depressione poi io ce l'ho avuta anche perché avevo perso il lavoro perché io sapevo che non potevo più correre in moto perché mi dissero che non potevo più andare in moto addirittura salire sulla moto poi adesso ci vado in moto a fare delle scuolette così però non potevo più salire sulla moto poi la mia moglie se ne andò via con il bambino io persi anche quella quella sicurezza lì mi trovai da solo a dover elaborare tutte queste cose che per me era era impossibile e pensavo visto che da noi c'è un sasso un monte che è fatto con un altipiano fatto con un ferro da stiro rovesciato che si chiama Pietro di Bismantova dove tanti vanno per suicidarsi perché è facile andare su ed è anche facile buttarsi giù perché non è recintato ed è tristemente famoso per i tanti suicidi che ci sono e io pensavo ad andare lì cosa ti ha ti ha trattenuto da farlo? da paura perché una volta andai su guardai giù e tornai indietro non ero non ero così fuori di testa per buttarmi perché per buttarti devi essere veramente fuori di testa e io probabilmente non ero così fuori di testa per buttarmi il pensiero del figlio anche il fatto di non lasciare Federico no la cosa brutta è quella che tu hai un bambino e non ci pensi non ci pensi minimamente tu pensi solo a te stesso è al dramma che stai vivendo non pensi agli altri e questa è una cosa veramente bruttissima perché per me Federico era come se non ci fosse cioè io mi buttavo non volevi farla finita era finita per te dopo come sei uscito piano piano io sono molto forte di carattere e questo lo dicono gli altri non dico io e andai da questo psichiatra che continuava a darmi queste pastiglie riducendo la dose perché diceva che mi vedeva un pochino migliorato però io ancora non straparlavo cioè non facevo un discorso senso compiuto proprio dicevo delle cose assurde e un bel giorno arrivò a metà pastiglia adesso devi cominciare a prendere metà pastiglia poi dopo ci rivediamo la volta prossima a quella volta lì io ho detto no basta io questa merda non la voglio più io ce la devo fare da solo ho buttato via quella pastiglia lì che si chiamava Zoloft che sono contiene diciamo è la pillola del buon umore che contiene c'è un ormone che è il buon umore che serve per il buon umore adesso non ricordo come si chiama e questa pastiglia lo contiene io l'ho buttato via ho detto basta non voglio farcela da solo e piano piano mi sono messo di impegno per riuscire a farcela ho preso una cicletta ho cominciato a dare ciclette in casa ho cominciato a uscire di casa perché non uscivo ero apatico completamente proprio non avevo voglia nemmeno di mettermi le scarpe stavo lì fisso sul divano aspettare che venisse sera e alla fine invece sono riuscito piano piano a rimettermi un po' a uscire a rivedere gli amici a cercare poi dopo anche grazie a Gramigni che mi invitò per un ultimo dell'anno in Sardegna che io subito gli disse no guarda non ci vengo poi Gramigni è di una simpatia talmente unica che al telefono mi fece ridere e a quel punto ho detto vabbè ok vengo ci troviamo a casa di Zamagni in Sardegna fecimo l'ultimo dell'anno io lui Reggiani e tutta la tua compagnia ci divertivamo come dei matti e da lì cominciai proprio a ritornare a ritornare nel mondo nel mondo perché io ero in un altro mondo ho vissuto tu vivi un altro mondo che sono le corse e questo mondo qui quando fai le corse è un mondo che non esiste poi ti catapultano una volta che smetti e dopo ti devi arrangiare perché il mondo vero è questo non è quello là è un mondo che dura poco e comunque riusci piano piano a venirci fuori non andai più dallo psichiatra che oltretutto mi ciucciava 200 euro tutte le volte che andavo non ci andai più e venni fuori da solo piano piano ci ho messo degli anni però non ci ho messo due giorni ci ho messo degli anni poi ricominciai anche ad andare in moto a fare delle scuole guide nonostante tutti fossero contrari io cominciai a fare delle scuole guide tanto le scuole guide non vai forte andare come quelli che vengono a fare le scuole guide sarò capace effettivamente sì perciò non sono più capace ad andare in moto però per insegnare le basi le so io ho avuto la fortuna di fare un corso con te devo dire che sei anche molto portato per cui invece secondo me ti sottovaluti voglio capire se però il fatto di essere riuscito a uscire da questo circolo allucinante dello psicologo lo consideri una delle tue vittorie più grandi? sì assolutamente è stata la più grande vittoria della mia vita la più grande vittoria è avere metabolizzato la partita di mia moglie che era 23 anni che eravamo insieme perciò è stato un trauma per me un trauma che non prevedevo e poi anche proprio il fatto di dire dalla sera alla mattina perché per me dalla sera io mi sono addormentato che andavo in moto mi sono svegliato che andavo in moto finito e non ci sarei più andato perché in neurologia tu in moto non ci vai più perché basterebbe un minimo io avevo un grosso ematoma sul talamo che il talamo è una zona del cervello dove tutte le informazioni vanno alla colonna vertebrale io avevo un grosso ematoma qui che premeva sul talamo che non sanno come si è riassorbito perché non era era inoperabile e dunque io sarei dovuto rimanere offeso con questo io si è riassorbito ha lasciato dei danni che sono quelli della memoria che non hanno più memoria che altri danni magari piacevoli perché ho sempre voglia di trombare però comunque spaghetti questo va bene questo va bene però ho dei danni che prima ho dei deficit che prima non avevo hai mai pensato poi di continuare a tua carriera nelle moto come tecnico come allenatore preparatore direttore sportivo no ci ho provato ci ho provato un anno con la Rai a fare la la telecronaca però non l'ero portato non l'ero portato poi la Rai dopo ho mollato la Superbike perciò dopo è finita lì non l'ero portato perché comunque sembra facile ma non è assolutamente facile quando uno è a casa che critica il telecronista e dice questo o quest'altro però ci sta la cazzata perché comunque non è assolutamente facile poi dopo poi dopo ho provato anche a fare diciamo il coach di piloti di alcuni piloti giovani sempre nella Superstock che però diciamo chi gestiva la Stock non il capo chi gestiva il team all'interno delle corse nelle varie corse capivo che davo fastidio ho capito che davo fastidio perciò quando vedi che da altra parte non sei ben voluto è meglio uscire tu togli il disturbo mi dispiace neanche tanto perché io ormai ero stanco ero stanco di viaggiare di essere sempre fuori casa infatti adesso io vivo in casa perché proprio andare fuori se uno se dovessi vincere per disgrazia una vacanza in Sardegna per me è un dispetto adesso sono in Thailandia con la jeep a trovare quella là in Thailandia se andrei volentieri però è un dispetto perché ho visato talmente tanto che adesso voglio stare a casa e mi ricordo che Edilorzion disse quando smise di correre finalmente non viaggerò più e io mi chiedi e mi dissi perché hai detto una cosa così adesso lo capisco ti godi la tua casa la famiglia fortunatamente una donna che ti sta vicino grazie a Dio questa per adesso è lì per adesso lì quello che succederà non lo sappiamo Paolo è sempre un piacere parlare con te grazie ci hai dato anche oggi delle lezioni importanti spero di non essere stato pesante è stato fantastico veramente grazie Paolo Casoli grazie ragazzi per averci seguito questa è la storia di motori ciao ciao grazie a tutti